ed eccoci qui con l'unboxing del prodotto in questione allora innanzitutto il pacco è arrivato come vedete malissimo cioè praticamente rotto da un lato proprio sembra quasi malpreso il sigillo per fortuna ha tenuto per quello che ha tenuto e principalmente forse riusciamo ad aprirlo anche se sembra aperto, cioè chiuso con la colla a caldo detto sinceramente da notare anche qui però comunque eccolo qua allora il prodotto arriva dentro a questa custodia devo dire fatta bene cioè praticamente è appunto il nostro display 4 in 1 con diversi attacchi ma soprattutto la valigetta video test, high resolution, UTP cable test, HDMI in, VGA in, 512V DC auto input, LED light e PTZ control quindi per le telecamere dom in pratica il costo di questo prodotto è stato appunto di 99€ poi ovviamente con Vipon l'abbiamo trovato 50€ ed era assolutamente bello da acquistare la custodia è fatta veramente bene è di tipo ABS per farvi capire e si apre in questo modo all'interno cosa ci troviamo? ci troviamo un alimentatore di quelli proprio farlocchi tipo modalità Apple che ha un'alimentazione da... non ci viene neanche descritta cioè ha un'alimentazione generica il tester dei cavi BNC quindi ci mostra proprio il cavo BNC da un lato adesso sperando che riesca a mettere a fuoco come vedete abbiamo proprio un... il prova costiale BNC e dall'altra parte RJ45 inoltre sempre la nostra valigetta cosa ci troviamo? un dispositivo morsetto che appunto serve principalmente per andare a collegarlo al PTZ per farvi capire le telecamere DOOM oltre a questo abbiamo anche un connettore BNC a Ethernet che appunto anche questo qui fa parte sempre del set dei test all'interno cosa ci troviamo? inoltre ci troviamo due manuali cioè per realtà uno è la garanzia del nostro ordine che abbiamo acquistato mentre l'altro il manuale del nostro tester la fascia per farvi capire quella antistrappo o quella che si attacca al braccio un connettore per, credo, alimentazione O-A-V-IN quindi connettori morsetto A-Jack oltre a questo abbiamo un alimentatore per telecamere esterne quindi questo genere di alimentazione quindi di quella alimentazione generica nonché anche cavo di alimentazione USB e ovviamente un cavo BNC per l'utilizzo appunto delle telecamere HD poi andiamo a vedere un secondo il nostro display il nostro display come vedete è fatto veramente bene è fatto molto bene dalla parte abbiamo qua un 5V out quindi USB solo per alimentazione qui abbiamo una segnalazione dell'alimentazione HD tester come vedete funzionante perfettamente ci mostra focus più e focus meno possiamo settare il PTZ control come vedete possiamo decidere protocollo e cose così quindi abbiamo un'impostazione veramente molto assurda il test del cavo BNC quindi possiamo fare i test in questo caso oppure possiamo andare a fare il setup appunto andando a impostare ad esempio il linguaggio come la luminosità e cose così il linguaggio come vedete abbiamo diversi tipi lingua come il contrasto saturazione poi qui abbiamo ingressi video quindi questo è per lo switch del nostro segnale VGA o HDMI quindi in questo caso possiamo anche collegare la nostra telecamera via HDMI nonché abbiamo anche da questo lato un connettore VGA nonché l'attacco RJ45 per la connessione al nostro sistema protocollo per la DOOM e oltre a questo devo dire che il display è fatto veramente bene ma ora direi di andare a fare un test riguardante proprio una delle telecamere che non siamo mai riusciti a testare quindi andremo a vedere proprio in diretta se funziona e se va tutto bene ok ci siamo allora abbiamo collegato in questo momento questa microcamera che avevamo acquistato molto tempo fa appunto non siamo mai riusciti a testarla allora effettivamente ora sta funzionando come vedete mi si vede a me ciao ragazzi mi vedete devo dire che anche i colori di questa telecamera sono veramente stupendi ma in tutto ciò siamo riusciti ufficialmente a farla funzionare per farvi capire 720x25 fps quindi effettivamente la telecamera funziona come funziona anche il nostro dispositivo viene rilevato in maniera automatica quindi è anche abbastanza veloce e come vedete si vede perfettamente la cosa poi passa anche in bianco e nero la nostra telecamera quindi sta lavorando più che decentemente quindi il display di per sé funziona ovviamente come potete notare sono molto nitido è veramente molto luminoso magari nel video si vede poco ma è veramente luminosa il video di questa telecamera ma soprattutto di questo monitor comunque per il resto dalla computer musica è tutto grazie ancora al prossimo episodio ciao ragazzi